Iniziamo con un paio di domande dei colleghi austriaci e poi facciamo i giornalisti italiani privilegiando chi non ha avuto l'opportunità di fare la domanda a Mr. Mourinho. Come vedete, come conosce Salisburgo e quale secondo lei la posizione di Salisburgo nel calcio europeo attualmente? Credo che una squadra che gioca la Champions League vuol dire tanto. Non è facile giocarla per nessuna squadra e credo che quello parla di come è il Salisburgo come squadra. Sappiamo che affrontiamo una squadra difficile, lo ha detto prima il mister, non sarà facile. Quindi saremo pronti per quello che sarà domani e sicuramente sarà una battaglia. Sì. 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 Buonasera Paolo, volevo chiederti questo, innanzitutto come dopo che si vince il Mondiale e tornare a giocare per il campionato, per la Europa League, che non è purtroppo la Champions League, con che spirito si affronta una manifestazione dopo che hai toccato il cielo, hai toccato il paradiso, come si torna a giocare questa manifestazione? E poi volevo chiederti se tu pensi che la Roma sia una delle squadre favorite per la vittoria in Europa League. Grazie. No, credo che la vittoria del Mondiale è una delle cose più belle che può accadere per un calciatore, è il massimo come hai detto tu, però queste sono competizioni diverse che non ho vinto e che voglio vincere ovviamente e darò il mio meglio insieme ai miei compagni, allenatori, per poter portare la Roma a vincere questo trofeo. Sappiamo, con rispetto alla seconda domanda, sappiamo che ci sono squadre più forti, come questo il mister Prima, che sono più favorite di noi per quello che hanno, per quello che rappresentano nel calcio, però non si sa mai cosa può accadere nel calcio, ci sono i sorteggi che a volte, se hai fortuna, ti possono aiutare, adesso si affrontano due squadre come Barcellona in Manchester United, quindi per forza una delle due rimarrà fuori, però quello è un po' per rispondere alla tua domanda. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a far bene, perché non possiamo pensare in avanti se non battiamo il Saliswur. La domanda è quella che stiamo in una della meistera, dove si è arrivato in una meistera in Italia e in un'Europa e non in una Champions League. La risposta del spielo è che io credo che ho davvero il più titolo, che dovessi come spielo, ma io spiele ora in un contesto, che ho ancora mai vieno e vogliono, voglio che vogliono e vogliono e vogliono e vogliono. Siamo tutti i favori per l'Europa League? Siamo tutti i favori per l'Europa League. 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 Sì, adesso penso soltanto alla partita di domani, a fare bene perché l'anno è ancora lungo, ci sono tante partite da giocare. Come ho detto all'inizio, io voglio vincere con la Roma. Cercare di vincere abbiamo solo matematicamente due, però con la possibilità più cara su uno. e l'anno prossimo che la Roma sia in Champions. Grazie. 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 e quindi mi piace. E come si dice, quando si vanno, ci aiutiamo, a continuare a gewinnen. E io ho spero, che il giusto per la WM e mi aiutare, anche a club e europei un titolo. Grazie! Grazie! Grazie!